Bentornati a tutti. Oggi è lunedì, 11 marzo 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Acquario. Plutone istrionico detta legge. A dettare legge oggi è l'istrionico Plutone, ormai da quasi un anno rientrato nel vostro segno dove rimarrà a lungo, per ciò che vi piace no vi dovrete abituare all'idea. Per saperne di più andate a scartabellare un testo di mitologia, l'antico dio degli inferi, dei semi e delle ricchezze. Le granaglie disseminate dagli antichi nelle tombe portavano cereali e il denaro ereditato dalla famiglia più agi e possibilità. Non immaginatevi però un tipo simpatico e charmante e se oggi, alla luce della psicanalisi, lo si collega al sesso, all'inconscio e alla sessualità più segreta, può celare anche gelosie e rancori. Proprio di questi vi dovreste liberare parlando finalmente a ruota libera, la possessività sottolineata dall'odierno novilunio vi turba e offusca, portando in superficie il lato più oscuro, chiamatelo pure infero, del vostro personaggio. Incredibile per voi esseri alati, in volo tra le stelle, prendete questa lunedì come un brutto esempio di caduta emotiva da cui dovrete impegnarvi a risorgere. Il rapporto d'amore purtroppo è con una persona non molto solida economicamente, spendaccione o con evidenti sofferenze finanziarie. Rimorsi e sensi di colpa potrebbero funestare le vostre giornate, ripensamenti e inquietudine. Il vostro partner ha un rapporto conflittuale con voi e bisogna assolutamente che voi comprendiate la sua situazione e lo aiutiate. Scelte difficili da fare oggi, anche in merito all'aiuto che una persona che vi è particolarmente cara vi potrebbe richiedere da un momento all'altro. Allontanati da un contesto che potrebbe essere più pericoloso di quello che sembra. Oggi vi alternerete tra inconcludenza e una certa creatività che vi porta ad essere particolarmente espansivi. Bene l'amore o perlomeno tutto sembra procedere tranquillamente. Molto lavoro o studio. Non trascurare gli affari che tratti insieme con gli altri. Oggi sarà meglio rimandare gli incontri di lavoro che non ritieni importanti. Aiutate un amico in difficoltà e non ve ne pentirete, solo mettete in chiaro alcune cose e procedete senza indugio. Se lo aiuterete disinteressatamente un giorno vi verrà ricompensato. Nessuno può togliervi niente senza che voi lo vogliate, quindi oggi, con estremo tatto ed educazione, affrontate una situazione che vi sta creando disagio e chiarite con una persona origine di questo disagio. Se vi sentite in difficoltà non ostinatevi a insistere ma provate a chiedere il consiglio giusto a chi ha i capelli bianchi. Del resto ci sono situazioni in cui meno solo si è e meglio è. Sul piatto della bilancia pesano i problemi irrisolti che vi siete trascinati contando di risolverli in momenti successivi. Ora appaiono in tutta la loro reale dimensione e alcuni di questi potrebbero schiacciarvi. Cercate di risolverni almeno qualcuno, di quelli più urgenti. Oggi qualcuno vi potrebbe far innervosire oltremodo e crearvi qualche problema, soprattutto sul lavoro. In ogni caso seguite la vostra strada e seguitate a mantenere un appeggiamento composto e paziente. Il vostro profilo si è basso. Si annuncia per voi una giornata particolarmente vivace, scandita dal transito di Mercurio, componente di ottimismo e buon umore, ospitato da oggi nel segno amico della riete. Il benefico pianeta rimarrà per voi propizio fino al 15 di maggio. Balzano in primo piano i rapporti con i vostri amici che popolano in maniera positiva il vostro quotidiano con iniziative, inviti, sollecitazioni di partecipazione a feste, vernissaggi, mostre. Il Sole, Nettuno, Saturno tutti in angolo benefico poiché ospitati nel segno limitrofo dei pesci, segno con cui intrattenete rapporti di buon vicinato astrologico, vi conferiscono fascino, savoir faire, adattabilità e capacità di intrattenere il prossimo. Il tutto per una vita mondana, compatibilmente col periodo, che si annuncia in questo nuovo giorno davvero spumeggiante. Non illudetevi di andare a fare shopping oggi con la luna nuova, dunque oscura in pesci nella vostra seconda casa, per giunta abbracciata a Nettuno fumoso e in contatto con il vostro astro guida urano, ormai da anni ostile alle migliorie in casa. Rischiate di acquistare i modelli sbagliati, soprattutto se puntate all'elettrodomestico avveniristico. Migliore la serata, grazie al passaggio della bianca signora, nell'ambiguo ariete, raggiunta da mercurio finalmente dinamico, sportivo e chiacchierone. Proprio il vostro stile, già sentite che andrete molto d'accordo. Amore ed eros. La possessività non fa parte del vostro carattere, perciò ve la scrollate di dosso, evitando di affrontare argomenti d'ordine sentimentale o comunque impegnativi, con persone a cui siete molto affezionati. Più disinvolta e allegra la chiacchiera serale con amici e parenti con i quali l'accordo è ottimale, avete una visuale simile della vita e soprattutto dell'attualità, ma sapete anche sdrammatizzare scherzandoci su. Quando le cose sono così tragiche e non si può fare nulla per cambiarle ci si sfoga con ironia e con sarcasmo. Lavoro e denaro. Non fate acquisti di utensili per la casa e tanto meno per il giardino, oggi rischiate di fare scelte sbagliate. Sì invece al vintage, magari ai mercatini dell'antiquariato, la vostra passione lunedì le dove trovare anche vecchie edizioni di libri ormai introvabili, che per voi equivalgono al tesoro dei pirati. Letture, conferenze, spettacoli impegnativi ma di grande soddisfazione, se è cultura non fate mai un passo indietro, volete essere informati su tutto e su tutto dire la vostra benessere. Scarso appetito quest'oggi, almeno per quanto riguarda il piatto. Ma se vi offrono uno spumantino o uno sprizzi il bicchiere è sempre pronto. Solo uno però, esagerare non vi piace e soprattutto non conviene, quando perdete la bussola fate tremende figuracce. Sia alla passeggiata, l'aria fresca già primaverile vi fa un gran piacere sulla pelle, tanto che incautamente vi togliete subito il giubbotto restando solo con una felpa. Tipica idea acquariana, ecco perché poi avete sempre il raffreddore. Per lei, per placare ansie e fobie non fate che riempirvi la bocca di dolciumi, aprendo la porta del frigo come quelle degli inferi, ma qui non c'è cerbero a sorvegliare perciò fate tutto quello che vi pare. Vorrà dire che piangerete tra qualche giorno sulla bilancia. Per lui, lunedì perfetta per una pedalata, una scarpinata in montagna, un'uscita per respirare aria finalmente pulita. Dopo tanta pioggia. L'inquinamento si è almeno dimezzato. Considerate però che tanto moto dopo giornate al chiuso mette addosso un forte appetito, chiamatelo pure fame. Segno che state davvero bene. Il consumo calorico andrà subito reintegrato. Colore delle emozioni, bordeaux. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 7, finanze, 6, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.